Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, in via Dante, dunque in una strada centralissima del capoluogo ionico. Vogliamo presentarvi una situazione incredibile di assoluto degrado, questo per dimostrarvi come l'amministrazione comunale di Taranto non realizza assolutamente la manutenzione non ordinaria ma ordinarissima. Guardate un po' cosa c'è su questo marciapiede, una vera e propria foresta urbana. Le immagini, penso parlino da sole, vedete ci sono erbacce per ogni dove, da un lato e dall'altro, a destra e a sinistra. Questa è la prova provata dell'incuria assoluta della mancanza di ordinaria manutenzione e di programmazione. Una città abbandonata a se stessa, una città evidentemente non amministrata. Caro sindaco, questa città non è amministrata. Io mi domando, non so lì cosa ci stia a fare, perché se parliamo di amministrare una città significa almeno dare un minimo di ristoro, assicurare al cittadino un minimo di vivibilità urbana. Così evidentemente non è. Sindaco, lei deve stare meno a palazzo di città e deve girare molto per la città e deve vedere le problematiche. Lei sicuramente queste cose neanche le immagina, neanche le conosce. Guardi, è assurdo che una città debba ridursi in questo stato, ma non è solo un fatto estetico, è un fatto proprio di igiene. Si verifica, si determina un proliferare di insetti, ma ho preso qui via Dante così come elemento simbolico, ma potremmo dire che ci sarebbero altre zone ancora più colpite da questo degrado. Ditemi voi, cosa ci vuole a mandare qualcuno con una taglia erba, anche a strapparlo manualmente? Nulla, non ci vuole nulla, eppure non lo si fa, perché è una città abbandonata. Io ho criticato tanto l'amministrazione Stefano, ma mi sa che l'amministrazione Melucci è riuscita, in un'impresa che sembrava impossibile, fare peggio di Stefano. Meditate cittadini, meditate.